musica fucile di precisione dotazione usa ecco qua al posto dell'arco proviamo al posto dell'arco innanzitutto poi vedremo e l'attrezzo riparatore occupa peccato occupa un posto nell'inventario vabbè chi se ne frega su farcare 2 era tutto tutto incorporato cioè tipo eravamo dei supereroi rotta la macchina ma si ripariamola mister muscolo proprio così c'aveva la chiave inglese nella tasca un gommo monu gomm devo assolutamente provarlo però aspetta la prossima missione è qui possiamo uscire con la barca da qui da qui credo che ci sia qualche cascata quindi meglio di no quindi allora dovevamo prendere questo avamposto guardate c'è un fiume c'è un fiume nell'avamposto quasi 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 no dobbiamo andare avanti con le missioni se no non sblocchiamo più le le armi no le armi scusa le abilità e questo è il mio cecchino beh almeno qui posso tenere il respiro perché con il coso non posso con il come si chiama l'altro con l'arco non posso non ho capito il perché ma non posso con l'arco punti abilità disponibili 4 non so più cosa vendere no cosa comprare cosa comprare come abilità allora le siringhe che preparo durano ma non mi spara vai proviamo così tira fuori la pistola dal nulla unità di salute parzialmente esorricce è questo sì perché si ripara siringhe medie eccolo qua ecco sei unità di salute porca miseria le uccidano da fuoco no perché tanto c'è solda c'era soltanto quella missione con lancia fiamme togli il sicuro una granata questa la devo provare devo uccidere qualcuno con una granata fantastico ma non avevamo già preso queste non avevamo già preso queste ah ok 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 abbiamo miglior gioco del mondo miglior gioco del mondo abbiamo sbloccato l'abilità migliore del pianeta ah sono alleati ciao ciao cioè neanche salutano che bastardi e ora siamo dei stealth professionisti diciamo dei pro stealth ci mancherebbero ancora qualche abilità però va bene andiamo comunque la missione di prima era un po' troppo action cioè lo stealth era praticamente impossibile perché erano tutti quanti raggruppati e ce n'erano tanti troppi cioè ci avresti messo tipo anni e anni per fare tutta la parte in stealth e guardate che razza di ambientazione però posso andare là sopra io boh un uomo chiamato siiii tu da dove arrivi sei anche nero fantastico una furia buia tipo vai via volare no mi vedrà mai tranquillamente sono sopra di lui via atterriamo atterriamo niente non è successo niente ok andiamo cosa succede aspetta che se ne vada altrimenti con i tuoi amici ci fa lo spezzacino io voglio che sia chiara una cosa chiunque chiunque aiuti quei selvaggi finirà come i nostri amici qui mi sono spiegato bene tu corri eeeh eeeh oh merda certo che è veramente brutale ma non capisco perché abbiamo messo due gemelle come come cosi comunque voi due morite no one shot no one shot ok peggior cecchino del mondo no andiamo bugnazzo ai caricatori non capisco perché vogliono così male ai caricatori ma non hanno visto il coso c'era un deltaplano qui e non l'hanno visto fantastico andiamo a prendere il nostro uomo oh no ci sono le mine ci sono le mine me ne sono accorto adesso anzi me lo so ricordato adesso sono un beota perché c'è la nebbia quando mamma mia no mi ha visto la headshot e beh e beh adesso io non voglio andare a finire nelle mine però come cavolo sei morto a te penso che esplode la allora vediamo ah eccole qua le mine ok no 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 aspetta non mi fido facciamo il giro lungo no e come ho fatto a non perdere vita io sono superman infatti no non è vero ah sono invollerabile l'agente l'agente willy santley mi ha chiesto di prenderti dice che puoi aiutarmi a trovare uno dei miei amici dimmi dove si trova oliver no devo andare al villaggio ora te lo dico quando arriviamo junior che cazzo ok quindi su dead space 3 c'è vegeta e qui c'è junior dobbiamo superare il campo no no dobbiamo arrivare al villaggio seguimi la un attimo un attimo che faccio fuori la gente vabbè ma quanta gente via 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 ma ma scusa c'è cioè stavo per dire potevo fare in stealth questa mission no non posso farlo in stealth fantastico un attimo perché c'è sta musica triste più che altro è epica ma è anche triste per qualche motivo no non prendere fuoco sì il sistema di copertura alla redorchestra fantastico il genio allora sto qua nei video c'ha la voce di junior e nel gameplay c'ha la voce di vegeta cavolo ho sempre sognato la fusione tra vegeta e junior però porca miseria eccola qui su far cry non me lo sarei mai aspettato sì via ma non avevo medikit no perché porca miseria smartphone fantastico lo venderò a 700 dollari dipende da che marca di me la sia vabbè buonasera sono un cane proprio adesso qua ci sono dei diamanti intorno questi qua si vado a esplorare un attimo di qua eccola qua regino ma teletrasporto trovato e lui si teletrasporta si danno fuoco da soli tutti qua eh beh trovati piuttosto disperata come situazione dove sono ah eccolo qua ciao c'è i tizi borderlands qua i tizi di borderlands quante roba uh missili quanta roba e non ha notato che c'erano i tizi dietro ma ci sono tre cosi in h come fai e vabbè ok lui si incasina con con due cose cioè dai te lo trovo io a sto punto ci metto un attimo cosa dobbiamo cercare tanto qui sto facendo i cumuli di cadaveri buonasera ancora ecco proiettili per tutti la chi vince coltello contro coltello ovviamente io chissà perché sarebbe una mina quella ah no ciao ciao sarebbe bello se ci fossero dei nemici steltosi tipo no 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 si si ok hai trovato i cosi o no mi sta ammazzando sto qua non lo sapevo nemmeno dai vini qua vini bravo cosa cavolo fa dove vai ah ma ma come ho fatto a prendere fuoco non lo so che razza di di uccisione mamma mia ok ci sono di capo ok ok prego entra pure scusa il casino ecco ho trovato la bolla di trasporto finalmente farò una foto per willis tiriamo fuori la nostra macchina fotografica op finalmente serve a qualcos'altro se non va bene ricevuta la foto i pirati usano codice data della pietra oliver è in viaggio sulla vecchia strada ti ho mandato le coordinate bene vado subito perfetto yeee possiamo dov'è la missione dall'altra parte del pianeta yeee eee facciamo così termino qui la prima sessione di registrazione dopo tanto tempo eee credo che continuerò un'altra volta adesso sto qui e ci vediamo alla prossima ciao alla prossima ciao niente cosa fare quindi come li facciamo fuori sui pizzi beh si lui vede il legno lui vede il legno ok me ne vado me ne vado non serve hehehe hehehe Grazie a tutti.